come detto ogni promessa è un debito allora facciamo partire prima Windows normale questo è il nostro mitico XP eccoci pronti ok abbiamo visto che è XP facciamo finire di caricare le seconde la connessione della rete ok chiudiamo adesso facciamo un bel spegni e riavvia e ripartiamo con il nostro sistema adesso ripartiamo con Windows 7 anche qui su chiusura di Windows in corso eccoci qua riparte Windows 7 vai caricamento eccolo che arriva eccoci qua e ve lo faccio vedere e ve lo faccio vedere software originale e queste sono le specifiche un giga da tenere presente un giga un giga un metro e settanta mille e sei gigahertz ok arrestiamo il sistema ok 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 ok